Ben trovati da Nikos di Trebi Meteo nel corso di lunedì ancora una zona di bassa pressione ampia alimentata d'aria fresca impegnerà le nostre regioni del centro sud e del versante adriatico con qualche piovasco, scroscio di pioggia intervallato comunque a pausa asciutta e con qualche schiarita meglio invece sui settori più occidentali l'alta pressione di fatti rimarrà confinata sul nord Europa determinando questa falla depressionaria sulle nostre regioni anche martedì andiamo però nel dettaglio della nuvolosità si conferma una giornata di lunedì con le nubi che ruoteranno attorno a questa zona di bassa pressione posizionata sul mar Tirreno e poi in sintesi la grafica quanto riguarda l'Italia nubi dal nord est verso la Puglia nubi regolari con fenomeni soprattutto tra Romagna, Marche e Abruzzo ma qualche piovasco breve temporale interesserà anche Sicilia Tirrenica, Dorsale Appenninica e Basso Tirreno meglio invece sulla Liguria e l'angolo nord occidentale con più sole proprio sul Piemonte massime che sfioreranno i 24 gradi dettagli maggiori su Trebi Meteo Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!